Quali sono i vostri timori per quanto riguarda i lavoratori abruzzesi? Sono gli stessi che valgono per i lavoratori e lavoratrici di tutta Italia, cioè non sono garantite quelle precauzioni che vengono raccomandate dalla mattina alla sera dalla televisione. Cioè la televisione ci invita a restare a casa, però ci sono milioni di persone per cui non vale questa prevenzione. Fino a pochi giorni fa, d'ore fa, non c'era addirittura neanche quel protocollo che è stato fatto in cui si dicono le cose minime che sarebbero dovute già scattare da giorni e che comunque rimangono non obblighi. Quindi noi salutiamo positivamente gli scioperi che sono in corso, tutte le forme di astensione dal lavoro. Tra l'altro i lavoratori non dovrebbero essere neanche costretti a scioperare, perché se nella loro azienda non si è in grado di garantire la prevenzione da un pericolo come quello del contagio, ebbene i lavoratori per il Codice Civile, oltre che per l'articolo 32 della Costituzione, hanno diritto di astenersi dal lavoro e di essere comunque retribuiti, perché è obbligo del datore di lavoro garantire le condizioni di sicurezza sul lavoro. Noi siamo molto critici verso il governo e verso l'opposizione di destra, perché sostanzialmente in Italia la Costituzione e il diritto alla salute si firmano davanti ai cancelli delle aziende. E' vergognoso che ci sono centri commerciali che sono stati aperti con dipendenti che hanno contatti con il pubblico, che non avevano neanche il minimo di protezione consentito dalla mascherina. E' gravissimo che ci siano fabbriche su fabbriche. Oggi arriva l'appello della Valfino, ma voglio ricordare che per giorni i lavoratori della Sevel, basta guardare una foto delle lavorazioni della Fede Sevel per vedere che i lavoratori stanno uno a fianco all'altro, mentre si sostituiscono i pezzi, insomma si fanno le lavorazioni, hanno lavorato senza protezioni. Ora il limite del protocollo è che dice che le imprese potranno. Noi riteniamo che invece bisognasse fare il contrario, scrivere che le imprese dovranno e aprire solo se erano in regola. Quindi noi continuiamo a insistere su questo piano. Se si vuole fermare il contagio bisogna fermare tutte le attività lavorative non essenziali e concentrare le protezioni nei settori essenziali, dalla distribuzione degli alimentari fino e soprattutto alla sanità, perché siamo arrivati all'assurdo che persino dentro gli ospedali i lavoratori e le lavoratrici della sanità a cui va la nostra solidarietà, il nostro rispetto e il nostro grazie hanno dovuto lavorare senza protezioni. Questa è una vergogna che deriva tra l'altro da anni e anni di politiche sconsiderate che hanno cancellato in questo Paese come in tutta Europa il ruolo dello Stato. si è inseguito un modello all'americana che è una follia. La Repubblica deve avere poteri, deve intervenire sull'economia, deve fare politiche sociali, deve essere in grado di tutelare i cittadini e le cittadine. Speriamo che questa tragedia faccia riflettere tutti sulla necessità di un cambiamento.